Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di GOMIDA IASMR. Buona domenica creatura, buona pennichella domenicale, buona domenica sera, buona domenica. Adesso contiamo in diretta tra i commenti quale pianta avete scelto. Allora, mi segno qua, mi scrivo 1, 2 e 3 e andiamo a mettere un tono, non lo stai vedendo ma io andrò a mettere con la pena qua su questo foglio, una X per ogni pianta. Allora, Francesca Fra ha votato la pianta numero 3, poi Giorgia ha pianta numero 3, voti segreti mi dicono, a me tanto sono pubblici. Angie Cut ha pianta numero 3, forse abbiamo già un vincitore. Poi, il piace, allora, non ha votato niente, perché non è riuscito a riguardo alla fine del video, mi fa troppo riuscire questa cosa. Poi, la regina del bosco ha scelto la pianta numero 1, colpo di scena, c'è anche qualcuno che ha votato la numero 1. Poi, Elisa ha scelto, adora, quanto riguarda la pianta, mi piace il vasso della numero 2, ma la pianta no, come te, mi sembra quella che trovi davanti alle chiese o al municipio. La 3 è bella, perché è grande, ma non è un granché come bellezza, quindi a questo punto scelgo la numero 1. Perfetto, poi, Giulio ha scelto la numero 3. E poi... Niente, questo non ha commentato niente. Eccolo qua, Frappo, anche io sono stato deluso dal telo, perché pensavo, papà, scelgo il gesto numero 3. Scusa, Frappo, se l'ho letto tutto il tuo commento, ma mi interessava il voto. Allora, in questa puntata non ti farò votare niente, perché oggi registro due video, perché mi sono tirato avanti, perché la prossima settimana non riuscirò a girarlo, e magari ne faccio due e ti faccio votare nel prossimo video, così poi, perché di solito li, per fare in modo che scegliate, non posso registrare tutti lo stesso giorno come fanno gli altri. Devo registrarli man mano e non posso portarmi avanti con la domenica. Però, questa volta, siccome ci darei, so già che non potrò andare a registrarli. E ci darei comunque a portarteli anche in agosto, anche se siamo tutti in ferie, eccetera, eccetera. Perché magari non siamo tutti in ferie, davvero. C'è qualcuno che non è in ferie, giustamente, o anche se è in ferie se li vuole guardare, no? E quindi, niente, portiamo pazienza per queste volte, dopo tornerai a scegliere di nuovo, va bene? Questa è la realtà, non ti dico cavolate, questo è il motivo. Per una volta non succede niente, tanto anche l'altra volta pensavo fosse un peso per te scegliere, quindi non è anche quell'altra volta lì. Però visto che adesso siete abbastanza attivi, mi dispiace, quindi la ragione è questa, è soltanto questa. E diciamo che sacrifichiamo la scelta per avere però anche un video in due domeniche di fila, nella settimana in cui non posso registrare. Allora, qui è facile capire che ha vinto la pianta numero tre, quindi andiamo a sceglierla insieme. Top, eccoci qua, vediamo cosa dicono. Ho sempre voluto provare l'arte doppiario. Beh, prima lasciali crescere un po'. Che vuoi dire? Non lo so. Ok, abbiamo zero stelline, quindi qua ci sarà il porfido. Stelle insufficiente, lo so più. Mi sto dando del pezzente. Ok. Molto simile ad altre cose che abbiamo fatto. Allora adesso cercherò di essere più, siccome, vediamo, ce ne stanno solo tre. No, ce ne stanno. In fondo mettiamo i calzini, finalmente dei calzini piegati come dei calzini, perché io, queste, allora che cosa sono? Sono mutande, sono calzini con il giocchetto. Non lo sapremo mai. Allora, la borsetta, le borsette le mettere in alto. La paliglietta. Non ho ancora visto geni di sorrisi emoshi. Quindi, come al solito, non so, sto facendo bene. Non importa. Non ho messo le quelle. Cioè, sembra fatto apposta, infatti è così. Allora, io non so se sono i reggisegni, ma... Vabbè, quelli con i fiocchetti le mettiamo qua giù. In tutto ciò ho paura che succeda come l'altra volta, ovvero che... Non vada l'audio. Quindi devo ridoppiare tutto. E questi video sono normalmente... Occhio per la borsetta. Questa è bella. Normalmente sono, tra virgolette, veloci da registrare, a parte le 400 pubblici dal secondo. Però, se poi succedono questi indoppi, non è proprio il massimo. Diventano lunghissimi, lunghissimi da registrare. Speriamo di no, dai. E se no, a pazienza, vorrei dire che li ridoppierò. Allora, un'altra palicetta. No, finalmente un emoji che sorride, eh. Finalmente. Le camicie le mettiamo qua. O mettiamo altro po'. Non lo so. Ok, qualcuno sta scavando fuori, ma... Di solito mi dice, no, non si sente tanto. Speriamo. Comunque stavo dicendo prima che partisse una pubblicità con un volume altissimo. Che, eh, io ce l'ho la camicia di questo colore grigia e nera. È anche una delle mie preferite. Di quelle invernali, ovviamente. Allora, adesso, reciceni. Andranno nel cassetto, ma un passo di segno. Vedi, ho messo qua quelle, diciamo, da uomo. Qua quelle con il fiocchetto, anche se in realtà io ne ho sia con i fiocchetti sia senza, quindi... Uomo tuo non esiste. Era solo per distinguerle, classificarle, ecco. Sai che io sono molto non baiari, quindi non mi faccio problemi su queste cose, però... Per fare un ordine, per dare un ordine, ecco. In quel senso, classificare. E non dico queste cose per giustificarmi, ma le dico... Perché spesso le mie parole vengono fraintese. E quindi lo dico per chiarire la cosa, insomma, ecco. La vomitate dell'arrogantico mi scelta. Oh, oh. Ah no, ok, sì, niente. Come l'ho detto? No, non c'è nessun poco. È tutto ok? Ok. Sì, c'era un'altra fila di colori, non era un problema. Allora, l'ho realizzato dopo. È che quando mi interrompe la pubblicità, i cani, quando mi interrompe la pubblicità, poi... perdo il mio ritmo. Ehi, 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 che succede? Adesso ho sempre l'ansietta che non stia registrando l'audio. Ehi, 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 vediamo di nuovo. Ok. Allora, mutandina rosa pisca. Pantanoni da girataria. Abbiamo una pila di mutande arancioni che veramente potremmo venderle al mercato, ma non lo faremo, perché mi sa che qua c'è un negozio. mutandina bianca, mutandina a viocchiettino malva, malvagio. No, forse abbiamo solo nero e rosa. Le regi poppe. Le regi capezzoli. Mi piace dire capezzoli, capezzoli, perché mi esce tipo quella di capezzoli, 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 capezzoli. Oddio, speriamo che non mi c'è un studio, per quello. Ah, gli stai nei tifosi andavano insieme, le ragazze, non so. E queste erano borsette. Borsette. Borsette, non lo so. Sto modificando apposta, come dico, borse, borsette, così un po' mi suonano più ASMR. Non preoccuparti. Dove? Ah, io dove? Ok. Bello sto zon, però le mutande è così, le vuoi anche io. Ha un azzurro. Eh, sì, mi sa che gli zainetti stanno tutti insieme. Questo è considerato zainetto, sì, non borsa. Non borsa. Borsetta. Non borsetta. Oh, questi mancavano. Appello. Che pila. Eh, cos'è? Eh, questo qua. Sì. Sì, secondo me è così. Adesso non so, perché ho messo pantaloni. E le giove, le cose. Però va bene lo stesso. Non credo che interessi. C'è un momento che ci diamo? No. Vabbè, dai, lasciamo così. Non ho voglia di spostare tutto. E anche oggi non ho fatto le cose perfette come avrei voluto. Incidemi. Ma dobbiamo... Non dobbiamo arrabbiarci con noi stessi. Accettiamo il pasto e andiamo avanti. E, 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 stiamo a cambiare. Io stavo dicendo l'ultima volta che ho usato Word, che era da tanto che non lo usavo proprio per questo motivo, perché il cilettico io con Word, perché il programma è pesante, perché fa quello che vuole. Cioè, io facevo tutto, e mi direi come facevi allora prima. Facevo tutto con Photoshop, perché con Photoshop metto quello che voglio dove voglio. Invece con Word mi fa, mi sposta l'interlinea, l'interlinea mi fa sclerare. Mi mette le cose dove vuole lui, e tutte messe male, in disordine. Non so come spiegare, c'è quella interlinea lì che svampa e fa quello che vuole. E me ne dà un po' zero, zero, un po' zero, uno, zero, così, hai capito? Ma decide lui all'improvviso, non è che lo imposto io, sto a poter rimpostarlo, lui me lo strafegno. E quindi mi sono sentita proiettata adesso a quello quando mi era. Sei calma, sei calma, non ci accidate. Non so a te se ho sentito che anche altre persone si trovano in questa condizione con Word. Però effettivamente negli uffici non è che mi posso mettere a usare, cioè io potrei anche, però in teoria no. Usare Photoshop per impaginare, cioè vado meglio perché metto tutto dove cacchio voglio. Mamma mia, lì è il controllo totale della situazione, io adoro. Invece con Word è più rebel e fa un po' cacchio, ve li pare. O con me, forse perché mi odia, non lo so. Però imparerò a gestire anche quello, dai. Manca solo quello, poi sono a posto. E abbiamo finito, beh dai, bello. Anche se, capito? Però non importa, noi abbiamo le nostre tre stelline. Scarta la carta, scarta la carta. Non voglio le patatine, no ma c'è una roba di Halloween. Vabbè anche il corno, va bene. Però ho visto, c'era una roba di Halloween, attenzione. No grazie. Ma voglio le cose di Halloween. Noi abbiamo abbastanza stelle, quindi si va concesso a lavorare di nuovo a un altro livello. Quelli che piacciono tanto a noi. Di cancelleria. O forse sono i miei preferiti. Intanto abbiamo messo il matitone. Poi, intanto, poi, penso che vadano qua vicini sempre anche questi. O che vadano qua uno, due. No, ce ne stanno solo due, sono tre. Quindi io le metterei qua. Due, due, due e tre. Ah, sono tre tutti, quindi... C'è sangue bianco. Senti, la sangue. C'è la succo e le tortole. Gli fai chiacchiapperà. Ma sono quattro queste. Ah, ma aspetta, qua c'è, c'è, c'è una discromia qua, strana. Ah, sono quattro anche questi. Sono confusa attualmente. Non ha senso logico. Aspettiamolo, ora intanto facciamo i pennarelli. I pantoni. Sono verdi diversi, io lo vedo solo io. Senza logico. E questo, quello, questo è diverso. A me sembra diverso, ma forse è l'ombra. No, è diverso. Questo è diverso ancora, forse. O non lo so. Non riesco a capire, ce ne sono uno, due, tre. Tre quali, basta. Quindi vanno messe vicine come queste. Lo so. Qualcuno mi dia un cenno. O sono due a due. Non riesco a capire questo. È diverso da quello. Ma quindi, se noi mettiamo tipo le diverse sfumature di giallo così, può starci. Secondo te, creator? Lo so. Ma sono tutti diversi. Lo sto capendo. Quei verdi lì dov'è? Non c'è da nessuna parte. Sono molto confusa. Vedi, sono tutti, io li vedo tutti e quattro diversi. Non ne vedo altri di verdi, a meno che non debbano comparire all'improvviso. Sono un po' confusa. Poi qui ci sono quattro spazi, ma i rossi sono diversi. Allora, aspetta, allora. Questa cosa mi confonde. Potremmo mettere i quattro verdi qua. Poi qua mettiamo rosa chiaro e qua mettiamo l'altra rosa. Ok? È questa cosa qua che mi confonde onestamente, però. Non importa. Proviamo lo stesso. Allora, così, e così. Però qua non mi piace farei così, così. E così, stavo dicendo. Partono troppe pubblicità. Secondo non erano così tante che prima può essere. Allora, rosso. Poi un po' più così. E questo qua. Poi questo, 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 questo e questo. E poi questo, 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 no. Questo e questo, vediamo. Yeee, belli però, eh. Qua è sbagliato, secondo me. Aspetta. È così, è così. Ok, andiamo. E stavolta abbiamo fatto il preciso, preciso, secondo me. Scarta, la carta, Halloween, Halloween, scarta, la carta. No, no! Hai visto? No! No! Che trigger! Trigger ovviamente negativo. Ma no, c'è la piantina di Halloween. No, cioè voi non l'avete capito. Voi del gioco, non tu, creatura. Vabbè, si va. Abbiamo 6 stelline. Ah, però, ah, però, ah, mi piacciono i sassi. È molto rustico, mi piace, perché questo è troppo lineare. E questo è bruttissimo, sembrano delle mattonelle di... Non lo so, non mi piacciono, non da esterno. Questo qua è bellissimo. Scomodissimo da camminarci, senza dubbio, ma belli esteticamente. È stata Dio con la pianta che hai scelto? Ora mi sento come Doroti sulla strada di mattoni gialli. Crescendo, il mago di osse è sempre stato il mio libro preferito. Anche il mio, il mio no. Ok. Niente, bisogna... Qua non so cosa sta in successo. Sì, volevo vedere cosa si poteva scegliere. Cosa sarà qua, all'angolo. Non lo so, comunque... Comunque la panchina c'era anche prima, non mi risulta. Vabbè, tanto dovremmo sceglierla, sicuro, perché c'è un buco. Vabbè, andiamo. La jazz, ok, anche qui abbiamo il make-up. Ombretti, poi li voglio tutti. Allora... Oh no, non so più come metterle. Ci sono delle scatole. Tanto la devo... Qua andrebbero gli ombretti, secondo me. Ma allora, io se ho messo nel... Eh, nel cassetto, e tu mi... Qua mi sembra perfetto. Ok. Cioè, prendo un altro, qua me ne prendo un altro. Posso mettere anche le cose tonde, o devo metterle qua? Non si sa. Non c'è da tutto saperlo. Allora, qua io metterò intanto le scatole, poi vediamo. Poi qui... No, scusa, qui. Mettiamo gli ombretti. Questi biotti giganti li metterei qua. Ah, sì, dai, questi mi sa che vanno qua. Allora farei in alternato, tondo e... Quadrato. Questo non lo so, quindi aspetto. Questi sembrano tipo dei profumi. Li metterei qua. Magari vanno per ogni... Magari ce ne sono tre, capito? Per ogni tipo. Metterei così. Ehi, mettiamo calmi. Ok. Mi sa di sì che questi vanno qua. Ma sono bruttissimi. Un, due, tre. Sì. Secondo me sì. Sono bruttissimi. Dicevo, sono bruttissimi rispetto a questi qua, che sono molto eleganti fatti così. Però... Possiamo scegliere. Non ce ne sono più. Mi piace che non andavano qua. No. Qua ce ne sono tre, vediamo uno, due e tre. Sì, no, no, no. Li più ti vanno giù. Allora. Così. Non fai neanche con i più ti giù. Come mai. Adesso. Adesso mi vado a spostarmi. Oh no. Ops. Vabbè, vabbè, facciamo finire di niente. Lì. Allora, no, 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 vabbè, sposta quello che vuoi, e che cacchia. Allora, spazio qua per metterci quel più dita che dopo dobbiamo spostare. Ok. Riusciamo, ovviamente, perfetto, però spero ci stiano. Ah, ok, perfetto. Per quello non ci sta. Ok. Mi piace, allora è venuto bene. Ti prego, incrocia le dita dei piedi e non sei capace neanch'io. Vabbè, allora incrocia le dita, quello che vuoi, incrocia quello che vuoi. E cose di Halloween, per favore, ok? Scarta, la carta, scarta, la carta, scarta. Ancora, ma mancia troppo. Ma che palle, io butto tutto. Se si potesse comprare gli arreti, io mi prenderei due cose di Halloween. Non si può. Ok. Allora, il frigo è mancabile, ma dobbiamo anche mettere le uova dentro. Ecco, ho detto, le scatolette di tono non vanno in frigo. Adesso voglio capire dove vanno le cose. Intanto proviamo così. Qua di solito ci va altro. Vero? Allora, intanto queste secondo me vanno qua. Il burro, lo mettiamo qua, non so quando ce ne sia. Queste sono tante. Potrebbero andare qua. E le uova, e queste potrebbero andare qua se no. Così, in pilote. Sono troppe. Le mettiamo così. Non so. Il burro forse andava sopra. Così. Non so. Non so quanti siano. Perso, ok. Non si vede più. No, e questi? No, cioè, ci sono diversi tipologie di burro perché immagino che sia così perché hanno una carta differente. Le pannocchie, ecco, cosa andava qui. Le pannocchie. Vedete? Le ho messe anche bene. Ecco, come l'ho detto. Eh, come l'ho detto, le ho messe bene. E qua sono le patate, credo. Sì, perfetto. Sono molto bio, allora. Le patate bio sono tutte spazibili per il patate. Queste sono patate, invece quelle bio sono patate. Le mie patate perché sono tutte speciali. Le vorrei spoilerare perché ho già fatto, praticamente, fino a venerdì 23 sono già programmati e caricati video. E vorrei spoilerarteli perché ho fatto degli esperimenti e alcuni sono venuti troppo belli, chissà se però a te piaceranno o quello più che altro. Via sta cassetta. Oh no. Mi sa che non andavano così. Vabbè, poi niente. E non si capisce quando si ne siano, no? Ma non può neanche regolarsi. Mi sembra comunque felice, dai. Mi siamo inizio ad un gatto. Vabbè. E concludiamo così. Non sono soddisfatta per niente di questa situazione, ma non importa, andiamo avanti. Non avevo neanche chiuso il cassetto. Vabbè. Scarta la carta, scarta la carta, scarta la... Che è sta roba, adesso? Uffì, niente così di alu, inizio d'altro. Ok, andiamo a vedere cosa c'è da scegliere. Di qua. La muretta. Questo sarebbe stato bello scegliere a te, ma l'ho scelto già. Secondo me questo è un po' tommaggio, perché abbiamo già la pianta molto grande. Mi piace questa, che si abbina con le scale, secondo me. E tanto diamanti ne abbiamo, quindi via. Sì, spero che la mia decisione ti piaccia. Il trattamento di bellezza sulla facciata della casa inizia a mostrare i suoi risultati. Ora l'edificio dimostra 50 anni in meno, addirittura. Dai, facciamo l'ultima. E dopo facciamo l'altra puntata. Ok. Qua mi ho messo se vado in confusione, perché non so cosa voglia che io faccia. Sono due. E più. No, sono fili. E mi sembra abbastanza soddisfatto della mia scelta, quindi procedo così. Sembrano diversi. Non so, i miei occhi fanno degli scherzetti, molte. Con le sfumature, però. Non importa. Credo che il gioco è contento lo stesso. Non ha troppe pretese come l'altro. Quindi va bene. E per quello che deve essere rilassante, perché non dovremmo stargli a stressarci o no. Non è tutto perfetto. Però riesco anche con questi giochi, giochi, giochi. A voler la precisione assoluta. Scusa, ma c'era un cane che appaiava proprio sotto la mia finestra. Quindi la vicina che ha deciso di comprare il cane, sostanzialmente in appartamento. E quindi forse c'è stato interrotto l'audio, probabilmente. C'è un'accento. Ma ho preso quello. Credo che sia così. 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 E così dallo spessore. Tipo. No. Credo sia in scala di grandezza. Sotto il mio punto di vista. Non so. Ma non è quel colore che me lo prendo. Ecco. Adesso qua come facciamo? Io fai così. Adesso al di là del colore. Se vedrai uno di questi così. E uno, vedi che c'è il suo corrispettivo. Non so se mettono qui o sotto. Sembra che facessi mettere. Ma non è lo stesso colore. Sì. Ma non fai mettere dove voglio. Io ho sempre i word, accidenti. Vabbè, non ti metto. Ok. Allora. Questo era questo. No, secondo me era questo. Guarda questo. No, questo qua. Quello è il campanimo. Poi ho troppo fermo a pensare. Scatto la pubblicità. Non mi piace se che mi mettano fretta. Non mi sembra giusto. A meno che, però, non vedo stelle, non vedo. Emoci e contente. Però proviamo lo stesso. Andiamo avanti. Prima o poi. Perché non so se devo metterla vicina. Vi do alternate. Però così sono comunque, ma porca rocca, sono comunque vicine, quindi può, non danno ceni di vita, quindi noi continuiamo. Stava andando avanti almeno qua un po', sì. Ok. Cioè, io voglio la mia trastostela, accidenti. Allora. Guarda, guarda come non me lo metti dove ho... Eh, l'ho messo. Ok. Anche questo. Ok. Ma cosa è successo? Ti è baccato? No. Ok. 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 Ok, me la trastello. Yeah. Anche se c'è qualcosa qua abbaccato. Scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta. Un po' soio tipo mensa. Vabbè, a te non il cibo piace, però non so più dove metterlo. Un po' delusa, sì, sì. Onestamente sono un po' delusa, ma... Facciamo fin di nuovo. Volevo le cose di Halloween, perché appena le ho viste ho detto le voglie. Ok. Ok, vediamo qua. Ah, la iuola. Bella. Eh, beh. Cioè. Beh, dai, questa è quella che sta meglio, secondo me, perché abbiamo scelto la frafalla coniglio con i fiori rosa. E quindi questi sono tipo fucsiacci, sono meglio che le rose rosse. Queste rose, a parte che la rosa non faccia spuglio, quindi vabbè. E quindi un po'. E in più è troppo, sembra troppo il giardino, quello di Alice, no? Questa qua è un po' più... Ma se no, questo è un verde proprio finto. Metterei questo, sì. Ma che bella seppe. Ho sentito che le seppe hanno bisogno di cure costanti da parte di un giardiniere. Ma noi non possiamo permetterci un giardiniere. Speriamo che la seppe si prenda cura di se stessa. Beh, non è un buon inizio questa frase. Ok. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Non ti faccio scegliere niente, ma sono sicura che avresti scelto anche tu questa seppe. Quindi è come se avessimo scelto insieme. Noi ci vediamo la prossima domenica. Sappi che, insomma, fino a 23 sono coperta. Ho già editato, caricato e programmato i video. E dopo, insomma, devo mettermi un attimo... Perché non ho... Vabbè. E quindi, niente... Dopo, più avanti, vorrò altri video. Anche perché a settembre vorrei anche iniziare delle serie nuove. Un po' a tema, autunnali. E... Criatura... 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 Un po' a tema, autunnali. Un po' a tema, autunnali. Criatura... Criatura...